Benvenuto, devi essere Martin. Esatto. Accomodati. Steven ti sta aspettando in giardino. Lui è Bob. Molto piacere, Bob. E lei è Kim. Piacere di conoscerti. Mi piace questo quartiere. Così tranquillo, pulito, bello. Dove abiti, Martin? Ehi molti amici? La cosa più importante nella vita è avere buoni amici. Mio padre lo diceva sempre. Aveva assolutamente ragione. Che ragazzo affascinante. Come è morto suo padre? Incidente d'auto. Tornava a casa. Era un mio paziente anni fa. Mi dispiace tanto per Bob. Non è niente di grave. No, è grave. Dove siete andati? Ha dei problemi. Gravi problemi psicologici. Li ha sempre avuti. Avevi bevuto quando hai operato suo padre? Un chirurgo non uccide un paziente. A un anestesista può succedere. A un chirurgo mai. Che altro vuoi che faccia? Qualcosa che metta fine a questa storia. Ecco che voglio poi farlo. Non aver paura, mamma. Dov'è? Che cosa le hai fatto? Non riesco a capire perché debba pagarne io il prezzo. Perché i miei figli debbano pagarne il prezzo. Apri la porta! È l'unica cosa che mi viene in mente che si avvicina alla giustizia. So they can put it out, out, out.